Grazie Presidente, Commissario Breton, questo regolamento dà vita finalmente a una vera identità digitale europea. Ho seguito questo dossier grazie al mio ruolo di negoziatore per i socialisti e democratici nell'opinione data dalla Commissione giuridica e permettetemi di fare per questo i complimenti alla relatrice generale Romana Jerkovic per l'ottimo lavoro fatto. Il nuovo portafoglio europeo dell'identità digitale rispetterà la protezione dei dati e della privacy, sarà open source e su base volontaria e consentirà di memorizzare dati, credenziali e attributi personali per accedere facilmente ai servizi in tutti gli Stati membri, tutto ciò senza dover per forza pagare un fornitore commerciale. Ad esempio ai cittadini sarà garantito l'utilizzo di firme elettroniche gratuite. Dopo il regolamento sull'intelligenza artificiale l'Europa deve essere leader mondiale anche nel campo dell'identità digitale, mettendo al centro le persone e i loro diritti. Da oggi si è cittadini europei non solo offline ma anche online. Grazie. Grazie a lei, onorevole Benifei.